Musica Ben trovati con il TG6 L'Aquila, oggi apriamo parlando del progetto case di Arischia, c'è il rischio concreto di sfratto per 50 famiglie, quella che si configura è una vera e propria emergenza sociale da affrontare per il comune dell'Aquila. 50 nuclei familiari dovranno abbandonare le New Town della frazione Aquilana di Arischia a causa della pericolosità dei balconi, ma per l'ente sarà difficile ricorlocarli se prima non salderanno i debiti relativi alle bollette delle utenze non saldate, per i quali risultano ancora amorosi. Ci dice tutto Giorgio Alessandri. È una doppia beffa quella in cui potrebbero incappare i residenti dagli alloggi antitismici della frazione Aquilana di Arischia. Secondo quanto appreso, infatti, per circa 50 famiglie si profila all'orizzonte l'ipotesi di un doppio sfratto. I nuclei, infatti, rientrano nel provvedimento di sgombero firmato a novembre dal sindaco Cialente, a causa della pericolosità dei balconi delle New Town. Risultati difettosi a seguito dei controlli tecnici. Ricordiamo che sulla vicenda dei balconi la magistratura aquilana ha aperto anche un fascicolo d'inchiesta. Le famiglie di Arischia, però, rischiano di dover fare i conti anche con un altro problema, ovvero quello dell'amorosità delle bollette delle utenze non saldate. Se non dovessero riuscire a saldare il debito, infatti, per il comune, non sarebbe possibile ospitarle in altri alloggi. Lo ha spiegato a chiare lettere anche il sindaco Cialente, parlando di scelta obbligata, alla luce anche dell'inchiesta della Corte dei Conti per i mancati introite nelle casse comunali per le bollette e la vicenda, ancora tutta aperta da chiarire, della transazione da 9 milioni di euro con Enel Energia, il cui credito è stato ceduto alla società Banca Sistema. Per coloro che invece sono in regola con i versamenti, la soluzione è già stata individuata. Saranno ospitati nelle map, ovvero le casette in legno, realizzate proprio nella fazione di Arischia, in attesa che gli alloggi del progetto case vengano riparati. In alcuni casi, addirittura, i balconi dovranno essere rimossi. Una nuova grana, insomma, per i cittadini che da sei anni aspettano di rientrare nelle proprie abitazioni e, al tempo stesso, per l'amministrazione comunale, che dovrà fare i conti, probabilmente, con una nuova emergenza sociale, oltre che abitativa. E ora la cronaca, un'operazione della squadra volante diretta dal dottor Nicola Di Pasquale. Ieri sera gli agenti hanno arrestato un cittadino romeno di 43 anni, sorpreso a rubare in un'abitazione inagibile. È fondamentale, in questo caso, la collaborazione dei cittadini che prontamente hanno segnalato una presenza particolare e strana alle forze dell'ordine, permettendo loro, quindi, di intervenire al più presto il servizio. Furto aggravato è l'accusa per la quale è stato arrestato ieri sera un cittadino romeno di 43 anni, sorpreso a rubare in un'abitazione di Villa Gioia, nei pressi della sede del Consiglio Comunale dell'Aquila, resa inagibile dal sisma. Ad intervenire sono stati gli agenti della squadra volante della questura dell'Aquila, guidati dal dirigente Nicola Di Pasquale. A segnalare l'uomo alle forze dell'ordine è stato un cittadino che ha notato la presenza nella casa di proprietà di un familiare. L'uomo, forzando con degli arnesi da scasso, era riuscito ad entrare nell'abitazione, ma grazie alla segnalazione la polizia è riuscita prontamente a bloccare la fuga del romeno, che è stato arrestato per furto aggravato. Essenziale, dice la polizia, la collaborazione dei cittadini, utilissima per sventare furti e collaborare con le forze dell'ordine. Ancora cronaca, ma parliamo di un'inchiesta perché sono terminate le indagini e si va verso la richiesta di processo per i tre indagati nell'inchiesta che riguarda presunti favori e tangenti all'interno dell'Exompi, centro servizio anziani dell'Aquila. Gli indagati, lo ricordiamo, sono Patrizia Del Principe, ex coordinatrice dell'Exompi, Carlo Pirozzo, lo segretario generale del Comune dell'Aquila, e Bruno Galgani, imprenditore originario di Antrodoco. Entro il prossimo lunedì gli indagati dovranno produrre materiale difensivo, una vicenda questa che iniziò, come ricorderete, nello scorso ottobre con le indagini portate avanti dalla squadra mobile del dottor Maurilio Grasso. Ci sono due filoni, il primo riguarda un concorso che la Del Principe avrebbe fatto truccare a suo favore, il secondo invece riguarda una tangente per traslochi in 36 camere della struttura Exompi per 16 mila euro. Nasce il distretto rurale dell'Abruzzo interno, in occasione del convegno organizzato dall'Istituto Nazionale di Urbanistica nella sala del Consiglio Comunale dell'Aquila, si è riunito e costituito il comitato promotore che dovrà unire imprese, enti e associazioni, reti e strategie comuni di sviluppo. Filippo Tronca. Fare rete e partecipare insieme ai bandi, mettere in comune risorse e competenze. Questo sarà il valore aggiunto, tutto sommato banale, del distretto rurale dell'Abruzzo interno che oggi ha mostrato i primi passi con la costituzione di un comitato promotore che nei prossimi mesi dovrà mettere insieme aziende, comuni e associazioni ed elaborare un piano di distretto. Le straordinarie opportunità offerte da questo modello di rete di sviluppo rurale sono state illustrate oggi nel corso di un convegno organizzato all'Aquila dall'Istituto Nazionale di Urbanistica. I distretti rurali sono stati istituiti a giugno con la legge regionale 93 del 2015 a firma del consigliere regionale Lorenzo Berardinetti. Il modello è quello della Toscana dove, in Maremma, i distretti sono una realtà dal 2010 e riuniscono migliaia di aziende che hanno moltiplicato i fatturati e creato occupazioni. Il vantaggio immediato sarà che nel piano di sviluppo rurale 2014-2020 che mette a disposizione dell'Abruzzo 432 milioni di euro molti bandi saranno ad esclusivo beneficio di aziende che si mettono in rete e propongono azioni di sviluppo comuni e di filiera. I vantaggi di distretto rurale sono soprattutto i vantaggi di aggregare il proprio territorio, le aziende agricole, i soggetti che sviluppano turismo, tutti i soggetti che sono interessati a sviluppare questo terreno, questa zona interna della provincia dell'Aquila in modo che possiamo mettere in sinergia soprattutto in vista della pubblicazione del PSR e dei bandi del PSR avere premialità rispetto agli altri aggregando le imprese. Che tipo di premialità ci sarà nel PSR? Mettere in rete tutti i soggetti, chi è interessato per esempio sull'operazione del tartufo può avere il contributo per l'operazione del tartufo e nel stesso tempo prendere premialità sul turismo, sull'agriturismo, sullo sviluppo del turismo in agricoltura. Quanto tempo ci vorrà per fare entrare a regime queste reti? La legge l'ho presentata io e approvata in Consiglio regionale tre mesi fa, quattro mesi fa. Adesso l'iniziativa preso l'ino è stata un'ottima iniziativa in quanto iniziamo a parlare a quantomeno dei distretti rurali, mettere, secondo me, come dirò adesso, mettere insieme tutti i soggetti, soprattutto i sindaci, non è inutile che prendi iniziativa un comitato ristretto a tre persone, ma se non con i pochi tutti gli amministratori locali e la provincia dell'Aquila è molto vasta, diventa problematico. Ieri sera si è aperto ufficialmente l'Aquila Film Festival, la rassegna cinematografica giunta alla nona edizione. Prima un omaggio a Papa Francesco nel giorno di apertura del Giubileo della Misericordia a Roma, poi la proiezione di una pellicola sul perdono e la vendetta nel cinema. Questa dunque l'apertura, un festival, lo ricordiamo, che ha sempre avuto un grande successo e che proseguirà sino al 18 dicembre, quindi una rassegna quest'anno molto più lunga. Si è aperta ieri sera la nona edizione della rassegna all'Aquila Film Festival. Nella giornata dell'apertura a Roma del Giubileo della Misericordia di Papa Francesco, un omaggio della società aquilana dei concerti barattelli, ha incantato la platea dell'editorium del castello, con la laude per frate Francesco, di Eugenio Allegri e Ramberto Ciammarughi. All'eventuno, il tema all'altra faccia del perdono, la vendetta nel cinema con la proiezione di in ordine di sparizione di Hans Petter. Un programma ricco e variegato, che andrà avanti sino al 18 dicembre. E ora parliamo di memorie d'artista. Omaggio all'Aquila Paola Bordoni, nel Museo delle Arti e dei Mestieri del Cinema, al via una mostra donata da un collezionista privato dedicata ad una delle più grandi attrici teatrali del Novecento. Ci racconta tutto Filippo Tronca. Paola Bordoni, una vita sul set e sul palcoscenico, una carriera lunghissima, lungo il secolo breve, il Novecento, cominciata nel 1916 e conclusasi pochi mesi prima della sua morte, nel 1994. Indimenticabili le sue interpretazioni nella locandiera di Luigi Chiarini e nei vitelloni di Federico Fellini, i monologhi scritti per lei dal poeta Mario Luzzi, il suo incontro fisico e interiore con il teatro di Pirandello, Beckett e Ionesco. E a lei è dedicata una mostra a cura della Lanterna Magica nel Museo delle Arti e dei Mestieri del Cinema, ospitata nella Biblioteca Provinciale di Bazzano. Costumi e fotografie, scene originali, sceneggiature ed anche proiezioni di lungometraggi dedicati all'attrice, di cui si invaghi anche Gabriele D'Annunzio, potranno essere ammirati ogni martedì e giovedì fino al 18 dicembre. A donare la mostra, altro valore aggiunto dell'evento, un privato cittadino, Roberto Durigon, prima ammiratore dell'attrice e quindi amico, infine custode, devoto della sua memoria. Nasce da uno spettacolo tanti anni fa, dove ho assistito per puro caso, iermati di Federico Garcia Lorca, questa figura di questa dolente, la vecchia, di vecchia, dalla dizione così perfetta e così moderna anche, mi prese dal mente tanto che da allora ho iniziato a seguire la signora Paola Borboni fino a instaurare con lei un'intensa corrispondenza durata diversi anni e poi arriva, per puro caso, è arrivata a me questa parte del suo archivio dopo la sua morte. E da dove nasce la decisione di donare questo archivio alla Lanterna Magica dell'Aquila? Sì, nasce dall'esigenza di garantire una corretta conservazione alla pubblica fruizione di questo materiale che credo sia abbastanza importante perché risale, le prime testimonianze risalgono appunto all'inizio della carriera, sono circa 2000 documenti che vanno dal 14 quando ancora non entrava in arte fino a poco prima della morte. La Lanterna Magica si unisce anche a un discorso di affetto verso la città dell'Aquila che non è la mia città ma che porto da sempre nel cuore. E ancora mostre, una mostra fotografica collettiva per far rivivere un evento che ha suscitato molto interesse, ha avuto un pubblico molto numeroso qui all'Aquila, il Jazz Italiano per l'Aquila, che a settembre ha letteralmente riempito le strade della città. Da oggi sino al 22 dicembre, nella sala Cesare Rivera di Palazzo Fibioni, l'esposizione di quello che è un diario di appunti su pellicola, su sensore digitale, semplici note di un giorno memorabile che ci si augura possa diventare un appuntamento fisso come ha dichiarato anche il ministro Dario Franceschini. Un progetto fotografico e la selezione delle fotografie nascono dall'esigenza di fissare nella memoria uno degli eventi più intensi dell'anno aquilano. Il lavoro conta 18 autori. Le fotografie in mostra sono di Marco Appetiti, Luigi Baglione, Paolo Baglioni, Mauro Branchi, Luca Cardarelli, Claudio Cinque, Stefano Di Scipio, Marco Equizzi, Francesco Fioravanti, Domenico Gualtieri, Cesare Ianni, Patrizio Migliarini, Marcello Narducci, Cristiano Voleone, Sara Occhiuzzi, Francesco Paolucci, Pierluigi Pietro Paoli e Maurizio Rossi. L'orario di apertura è dalle 15.30 alle 18.30 con ingresso libero. E nella giornata internazionale della dichiarazione dei diritti umani all'Aquila si è organizzato un convegno, un appuntamento domani 10 dicembre alle 16 a Palazzetto dei Nobili. Codice Rosa, il pronto soccorso per le vittime di violenza si parlerà di un progetto di legge della Regione Abruzzo, modererà la giornalista Daniela Senepa, ci saranno interventi importanti organizzato dal Soroptimist International Club dell'Aquila e Teramo, ci sarà la Presidente del Soroptimist dell'Aquila di Teramo, la Senatrice Stefania Pezzopane, Vittoria Doretti, Claudia Paiara, Carmela Di Sante, Marinella Sclocco, psicologa e assessore regionale, Roberta Davoglio, che come sapete è il sostituto procuratore della Repubblica, tornerà anche l'ex questore dell'Aquila, Vittorio Rizzi, per partecipare, ci saranno anche testimonianze di giovani donne. Un appuntamento dunque importante, tutto da seguire. Con questa notizia termina il nostro telegiornale, TG6 l'Aquila, noi vi ringraziamo come sempre per la cortesi e attenzione, vi invitiamo a rimanere su TV6 per la nostra consueta programmazione. Arrivederci. Grazie a tutti.